Conto alla rovescia per le Final Four di Coppa Italia di Basket in Necaruzzina che si disputeranno venerdì 3 e sabato 4 marzo al Paleletra di Pescara. Ci sarà anche l'amicacci Giulianova che ha l'onere e l'onore di organizzare la manifestazione e che nella semifinale di venerdì ore 16 se la giocherà con la supercorazzata Porto Torres. Nell'altra semifinale ore 18 si sfideranno Cantù e Potenza Picena. Dall'amicacci l'invito a seguire l'evento. Questo è uno sport stupendo. Non dobbiamo pensare di andare in un palazzetto a vedere dei ragazzi che a fatica corrono dietro una palla. Questi sono degli atleti veramente. E in questa circostanza abbiamo le quattro miglior squadre d'Italia che appunto si contendono la Coppa Italia. E' un trofeo nazionale questo. E quindi ci sarà senz'altro uno spettacolo meraviglioso. Chiaramente noi cerchiamo di riempire al massimo. Abbiamo lavorato tanto, ci farebbe tanto piacere che questi ragazzi, anche perché questi ragazzi più hanno pubblico e più riescono a dare. E quindi niente, veniteci a vedere perché, veniteli a guardare perché sono dei ragazzi meravigliosi, degli atleti meravigliosi. Il Comune di Pescara sostiene la manifestazione nell'ambito del progetto Solidarietà Fa Sport. Ai ragazzi, diciamo, nelle scuole, proprio attraverso la società Micacci e tutte le altre associazioni che hanno aderito al progetto e che quindi si trovano all'interno delle classi, all'interno delle scuole, vogliamo dire che gli ostacoli vanno affrontati e superati con coraggio, determinazione e impegno. E questo è un grande insegnamento per gli studenti, per i ragazzi, perché spesso si arrendono davanti agli ostacoli, anche agli ostacoli della vita. Ed è un grande insegnamento anche perché vuole essere un'attività di sensibilizzazione nei confronti delle persone con disabilità.